anche questo avete messo dentro avete rotti i maroni ma chi è che ha messo le zone 5 5 perché si è spento prima del giudice e la prossima volta la prossima volta dobbiamo fare rosse blu e gialli che almeno facciamo una differenza un po più sostanziale rosso ciò vi c'è un bagnato al telefono non ciò vi c'è un po' 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 ciò vi c'è un po' non ciò vi c'è un po' è la scuola è la scuola dell'andrea quella lì non ciò vi c'è un po' non ciò vi c'è un po' non ciò vi c'è un po' ciò vi c'è un po' questo lo prendi dopo tu eh questo lo prende spampi dopo che compagnia ragazzi quando l'ho fatto stavo andando per aria scorta guarda è prima cazzarola cazzo vai a fare secondo dove vai eh vedi 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 che stupido guarda che scotta eh no guarda che scotta questa qua eh no scotta poi no perché non gli bruci la gamba subito no dovevo mettere su lei ma la nostra lì è rovente lì è rovente lì bravo 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 perf la ahahahah cazzo il pietro il vame è una bestia oggi perca diavolo dopo dopo ti lascia andare no perchè se sto qua mi da la colpa mia e poi che l'ha fatto proprio easy ma che adesso sbaglia sotto l'ha fatto proprio easy ma che adesso si 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 garantito il primo che cazzo metti a seconda per fai i gialli sicuro è per quello